Sussurri e sangue marcio. Nei giorni successivi Harry passò molto tempo a mimetizzarsi ogni volta che intravedeva Gilderoy Lockhart per un corridoio. Più difficile da evitare era Colin Crivey, che sembrava avesse imparato a memoria i suoi orari. Niente sembrava emozionarlo di più del chiedergli sei o sette volte al giorno «Tutto bene, Harry?» e del sentirsi rispondere da lui un laconico ed esasperato «Ciao, Colin!» Edvige ce l'aveva sempre con Harry per il disastroso viaggio in macchina e la bacchetta di Ron era ancora in avaria. Aveva superato se stessa il venerdì mattina, quando gli era sfuggita dalle mani durante la lezione di incantesimi e aveva colpito il piccolo professor Flitwick dritto in mezzo agli occhi, procurandogli un grosso e doloroso furuncolo verde. Perciò, fra una cosa e l'altra, Harry fu molto contento che fosse arrivato il weekend. Lui, Ron e Ermione volevano andare a trovare Hagrid il sabato mattina, ma proprio quel sabato Harry fu svegliato da Oliver Wood, il capitano della squadra di Quidditch di Grifondoro, diverse ore prima di quanto avrebbe voluto. «Che succede?» chiese mezzo intuntito. «Allenamento di Quidditch!» disse Wood. «Giù dalla branda!» Harry sbirciò fuori dalla finestra. Sospesa tra il rosa e l'oro del cielo, c'era una nebbiolina sottile. Ora che si era svegliato, non riusciva a capire come avesse potuto dormire con tutto il baccano degli uccelli. «Ma Oliver!» gracchiò. «È appena l'alba!» «Appunto!» disse Wood. Era un ragazzo del sesto anno, alto e corpulento, e in quel momento lo sguardo gli brillava di un folle entusiasmo. «Fa parte del nostro nuovo programma di allenamento! Muoviti, prendi la tua scopa e andiamo!» disse concitato. «Nessuna delle altre squadre ha cominciato gli allenamenti. Noi saremo i primi in classifica quest'anno!» Tra brividi e sbadigli, Harry scese dal letto e cominciò a cercare la divisa da Quidditch. «Molto bene, vecchio mio!» disse Wood. «Ci vediamo sul campo tra un quarto d'ora!» Trovata l'uniforme scarlatta e buttatosi sulle spalle il mantello per scaldarsi un po', Harry scarabocchiò un biglietto per Ron, spiegandogli dove era andato, e Nimbus 2000 in spalla scese la scala a chiocciola che portava alla sala comune. Aveva quasi raggiunto il varco coperto dal ritratto quando udì un rumore alle sue spalle. Era Colin Crivei che scendeva come un razzo giù per la scala a chiocciola, con la macchina fotografica appesa al collo che oscillava furiosamente e qualcosa stretto in mano. «Ho sentito qualcuno fare il tuo nome per le scale, Harry. Guarda che cosa ho qui. L'ho fatta sviluppare. Volevo mostrartela!» Harry guardò sbalordito la foto che Colin gli stava sventolando sotto il naso. Un Lockhart in bianco e nero strattonava un braccio che Harry riconobbe come suo. Fu con piacere che vide la propria immagine fotografica lottare niente male e rifiutarsi di essere inquadrata. Poi vide Lockhart rinunciare e cadere, ansimando, contro il bordo bianco della foto. «Me la firmi?» chiese Colin ansioso. «No!» rispose Harry in tono deciso, guardandosi intorno per controllare che nella stanza non ci fosse nessuno. «Scusami, Colin, ma ho fretta. Allenamento di Quidditch!» Si arrampicò su per il varco lasciato libero dal quadro. «Oh, grandioso! Aspettami! Non ho mai visto una partita di Quidditch!» E Colin si arrampicò dietro di lui. «Sarà una cosa molto noiosa!» si affrettò a dire Harry, ma Colin, che scoppiava di entusiasmo, lo ignorò. «Tu sei il giocatore più giovane della scuola negli ultimi cento anni. Non è vero, Harry? Di, non è vero?» insistette Colin trotterellandogli a fianco. «Devi essere una bomba! Io non ho mai volato! È facile! E quella scopa è proprio tua! È la migliore al mondo, vero?» Harry non sapeva come liberarsi di lui. Era come avere un'ombra estremamente chiacchierona. «Non ho capito bene come si gioca a Quidditch!» proseguì Colin col fiato corto. «È vero che si gioca con quattro palle e che due palle svolazzano qua e là cercando di buttare giù i giocatori?» «Sì!» disse infine Harry, rassegnandosi a spiegare le complicate regole del Quidditch. «Si chiamano bolidi. Ogni squadra ha due battitori muniti di mazze per allontanare i bolidi. I battitori di Grifondoro sono Fred e George Weasley. «E le altre palle a che cosa servono?» chiese Colin incespicando e scivolando per due gradini perché continuava a guardare Harry a bocca aperta. «Beh, la pluffa, una palla rossa piuttosto grossa, serve per fare gol. Tre cacciatori per ogni squadra si lanciano la pluffa e cercano di farla passare attraverso le porte all'estremità del campo. Sono tre lunghi pali con in cima degli anelli. «E la quarta palla?» «È il boccino d'oro», disse Harry, «che è molto piccolo, molto veloce e difficilissimo da prendere. Ma quello è compito dei cercatori, perché la partita non finisce fino a che non viene preso il boccino d'oro e il cercatore che ci riesce guadagna altri centocinquanta punti per la sua squadra». «E tu sei il cercatore di Grifondoro, non è vero?» chiese Colin con reverente ammirazione. «Sì», rispose Harry. Intanto erano usciti dal castello e si avviavano giù per il pendio bagnato di Lugiada. «E c'è anche il portiere, a difesa delle porte. Tutto qua, davvero?» Ma non ci fu verso che Colin smettesse di tempestarlo di domande, mentre attraversavano i prati che degradavano verso il campo da gioco e Harry riuscì a levarselo di torno soltanto quando arrivò agli spogliatoi. Colin gli gridò dietro con la sua vocetta stridula. «Vado a scegliermi un posto in prima fila, Harry!» e spiccò una corsa verso le tribune. «Anche gli altri giocatori della squadra di Grifondoro avevano raggiunto gli spogliatoi. Wood sembrava l'unico davvero sveglio. Fred e George Weasley se ne stavano seduti con gli occhi gonfi di sonno e i capelli scompigliati, vicino a una ragazza del quarto anno, Alicia Spinnett, che sembrava sul punto di addormentarsi in piedi contro la parete. Dalla parte opposta, le sue compagne cacciatrici, Katie Bell e Angelina Johnson, sbadigliavano una accanto all'altra. «Finalmente sei arrivato, Harry! Cosa ti è successo?» chiese brusco Wood. «Bene, prima di entrare in campo volevo fare due chiacchiere con voi, perché ho passato l'estate a mettere a punto un nuovo programma di allenamento che, secondo me, cambierà radicalmente le cose. Wood aveva in mano la grande pianta di un campo da gioco, su cui erano state tracciate linee, frecce e croci con inchiostri di colore diverso. Tiro fuori la bacchetta con cui diede un colpetto al suo grafico e le frecce cominciarono a contorcersi come millepiedi. Mentre Wood si lanciava in una dissertazione sulla sua nuova tattica, Fred Weasley abbandonò la testa sulla spalla di Alicia Spinnett e cominciò a russare. Ci vollero circa venti minuti per spiegare il primo grafico, ma sotto a quello ce n'era un altro e poi un terzo. Harry cominciò a sonnecchiare, mentre Wood, con voce monotona, continuava le sue spiegazioni. «Allora», concluse Wood, scuotendo Harry da una nostalgica fantasia al pensiero di quel che avrebbe potuto mangiare a colazione in quel preciso momento su al castello. «Tutto chiaro? Ci sono domande?» «Sì, io ne ho una, Oliver», disse George, che si era svegliato di soprassalto. «Perché tutto questo non ce l'hai detto ieri, quando eravamo svegli?» A Wood l'osservazione non piacque. «Statemi bene a sentire tutti», disse guardandoli torvo. «L'anno scorso avremmo dovuto vincere la Coppa di Quidditch. Siamo senz'altro la squadra migliore, ma purtroppo, a causa di circostanze indipendenti dalla nostra volontà...» Seduto dove si trovava, Harry si fece piccolo piccolo per la vergogna. L'anno prima, durante la partita finale, lui era in infermeria, privo di sensi. Per questa ragione Grifondoro era rimasto a corto di un giocatore e aveva subito la peggiore sconfitta degli ultimi 300 anni. Wood ci mise qualche secondo per riprendere il controllo. Era chiaro che quell'evento gli scottava ancora atrocemente. «Quindi quest'anno ci alleneremo molto più di quanto non abbiamo mai fatto!» «Bene, ora andiamo a mettere in pratica le nostre nuove teorie!» esclamò Wood afferrando il suo manico di scopa e precedendoli fuori dagli spogliatoi. Con i muscoli freddi e ancora sbadigliando, la squadra lo seguì. Erano rimasti così a lungo negli spogliatoi che il sole era ormai sorto del tutto, anche se sull'erba dello stadio ristagnava ancora qualche residuo di nebbia. Quando Harry entrò in campo, vide Ron e Hermione seduti sugli spalti. «Non avete ancora finito?» chiese incredulo Ron. «Non abbiamo neanche cominciato!» rispose Harry guardando con invidia il pane tostato e la marmellata d'arancia che Ron e Hermione si erano portati dalla sala grande. Wood ci ha insegnato delle nuove mosse. Inforcò il suo manico di scopa, si diede la spinta e si sollevò in volo. L'aria fredda del mattino gli sferzò la faccia, svegliandolo assai più del lungo sermone di Wood. Era meraviglioso trovarsi di nuovo sul campo di Quidditch. Sorvolò lo stadio a tutta velocità, facendo a gara con Fred e George. «Che cos'è questo rumore di scatti?» chiese Fred prendendo una curva a tutta birra. Harry si voltò a guardare verso le tribune. Colin era andato a sedersi su una delle file più in alto, brandiva la macchina fotografica e scattava foto all'impazzata e nello stadio deserto il rumore veniva stranamente amplificato. «Guarda da questa parte, Harry! Da questa parte!» gridò con la sua vocetta acuta. «E quello chi è?» chiese Fred. «Non ne ho idea», mentì Harry e diede un'accelerata che lo portò il più lontano possibile da Colin. «Che succede?» chiese Wood accigliato, raggiungendoli in volo. «Perché quel ragazzo del primo anno scatta foto? Non mi piace! Potrebbe essere una spia dei serpeverde che cerca di saperne di più sul nuovo programma di allenamento!» «È un grifondoro!» si affrettò a dire Harry. «E Oliver, i serpeverde non hanno bisogno di spie!» spiegò George. «Perché dici così?» chiese Wood con aria inquisitoria. «Perché sono qui di persona!» disse George indicando con la mano. Un gruppetto in divisa verde stava facendo il suo ingresso in campo, scope in resta. «Non ci posso credere!» si bilò Wood indignato. «Il campo l'ho prenotato io per tutta la giornata. Adesso la vedremo!» Scese impicchiata e, arrabbiato com'era, atterrò più bruscamente di quanto non fosse sua intenzione, tanto che una volta smontato, balcollò leggermente. Harry, Fred e George lo seguirono. «Flint!» gridò Wood al capitano dei serpeverde. «Questo è il nostro turno di allenamento. Ci siamo alzati di buon'ora apposta. E ora fuori dai piedi!» Marcus Flint era ancora più grosso di Wood. Sul viso aveva un'espressione di diabolica furbizia. «C'è spazio a volontà per tutti!» Wood rispose. Si erano avvicinate anche Angelina, Alicia e Katie. Non c'erano ragazze nella squadra dei serpeverde che, spalla a spalla, facevano muro davanti ai grifondoro, gettando occhiate maliziose a qualcuno dietro di loro. «Ma il campo l'ho prenotato io!» Le batte Wood sputacchiando saliva per la rabbia. «L'ho prenotato io!» insistette. «Ah!» replicò Flint. «Ma io ho un permesso speciale del professor Piton. Il sottoscritto, professor S. Piton, autorizza la squadra dei serpeverde ad allenarsi oggi sul campo di Quidditch per la preparazione del suo nuovo cercatore.» «Avete un nuovo cercatore?» chiese Wood preoccupato. «E dov'è?» E da dietro ai sei possenti personaggi che fronteggiavano i grifondoro ne comparve un settimo. Era un ragazzo più mingerlino e il suo viso pallido e appuntito era illuminato da un sorriso gongolante. «Era Draco Malfoy!» «Non sei per caso il figlio di Lucius Malfoy?» chiese Fred guardando il ragazzo con aria disgustata. «Strano che tu nomini il padre di Draco!» disse Flint mentre gli altri sorridevano ancora più apertamente. «Lascia che ti mostri il generoso dono che ha fatto alla squadra dei serpeverde.» Tutti e sette sfoderarono la propria scopa. Al sole del primo mattino sette manici lustri e sette targhette d'oro fino con su scritto Nimbus 2001 brillarono sotto il naso dei grifondoro. «Ultimissimo modello!» «E' uscito soltanto il mese scorso», disse Flint con aria indifferente togliendo un granello di polvere dalla sua scopa. «Credo che superi di molto il vecchio modello 2000. Quanto poi alle Tornado?» proseguì rivolgendo un sorriso maligno a Fred e George che avevano entrambi una Tornado 5. «Potete anche spazzarci il campo!» Sul momento nessun grifondoro trovò di che replicare. Malfoy ghignava così soddisfatto che gli occhi gli si erano ridotti a due fessure. «Ah, guardate!» disse Flint. «Un'invasione di campo!» Ron e Hermione si stavano avvicinando per vedere cosa stesse accadendo. «Che succede?» chiese Ron a Harry. «Perché non giocate? È lui che ci fa qui!» guardò Malfoy che nel frattempo stava indossando la divisa di serpeverde. «Io sono il nuovo cercatore di serpeverde, Weasley!» gli rispose il ragazzo con aria compiaciuta. «E tutti stanno ammirando le scope che mio padre ha comprato alla nostra squadra!» Ron rimase a guardare a bocca aperta i sette superbi manici di scopa che gli si paravano davanti agli occhi. «Belli, vero?» disse Malfoy con voce sua dente. «Ma non è detto che anche Grifondoro non riesca a mettere insieme un po' di soldi per comprarsi delle scope nuove. Se mettete all'asta quelle vecchie carrette di Tornado 5 vedrete che qualche museo pagherà per averle!» I serpeverde scoppiarono in una risata fragorosa. «Per lo meno nessuno nella squadra di Grifondoro si è dovuto comprare la missione», commentò Ermione Aspra. «Loro sono stati scelti per il talento!» L'aria soddisfatta di Malfoy vacillò. «Nessuno ha chiesto il tuo parere, l'urida sangue marcio!» sbottò. Harry intuì subito che quello doveva essere un insulto pesante, perché quella strana espressione suscitò un'istantanea sommossa. Flint dovette tuffarsi davanti a Malfoy per impedire che Fred e George gli saltassero addosso. Alicia strillò «Ma come osi!» e Ron affondò la mano nelle pieghe del vestito e strasse la bacchetta gridando «Questa la paghi, Malfoy!» e la puntò furibondo contro di lui. Uno scoppio tremendo risuonò per tutto lo stadio. Un fascio di luce verde uscì dalla parte sbagliata della bacchetta di Ron, lo colpì allo stomaco e lo scaraventò a terra. «Ron! Ron! Tutto bene?» gridò Ermione. Ron fece per parlare, ma non riuscì a dire neanche una parola. Emise invece un potente rutto e dalla bocca gli uscì un getto di lumache che gli caddero sulle ginocchia. I serpe verde erano paralizzati dal ridere. Flint era piegato in due e per non cadere si reggeva alla sua nuova scopa. Malfoy era caduto a quattro zampe e picchiava freneticamente il pugno a terra. I grifondoro erano tutti intorno a Ron, che continuava a vomitare grosse lumache lucenti. Sembrava che nessuno volesse toccarlo. «Forse è meglio portarlo da Hagrid, che è più vicino», disse Harry a Ermione, la quale annuì coraggiosamente. Entrambi cominciarono a tirare Ron per le braccia. «Che cosa è successo, Harry? Che cosa è successo? Sta male, ma tu puoi curarlo, non è vero?» Colin si era precipitato giù dalla tribuna e ora gli saltellava intorno, mentre loro lasciavano il campo. Ron ebbe un altro enorme conato di vomito, anche questo seguito da una fuoriuscita di lumache. «Oh!» esclamò Colin affascinato, brandendo la macchina fotografica. «Harry, riesci a tenermelo fermo?» «Fuori dai piedi, Colin!» gli gridò Harry infuriato. Poi, insieme a Ermione, trascinò Ron fuori dello stadio e poi giù, attraverso i campi, verso il limitare della foresta. «Siamo quasi arrivati, Ron!» disse Ermione quando si intravide la capanna del guardacaccia. «Vedrai che tra un attimo starei bene. Siamo quasi arrivati!» Erano a meno di sessanta metri dalla capanna di Hagrid quando la porta si aprì, ma a uscirne non fu il guardacaccia, bensì Gilderoy Lockhart, che quel giorno indossava un abito color malvapallido. «Sverti, nascondetevi qua dietro!» sibilò Harry, trascinando Ron dietro un cespuglio lì vicino. Ermione lo seguì, anche se con una certa riluttanza. «È semplice se sai quello che fai!» stava dicendo Lockhart a Hagrid, parlando a voce molto alta. «Se hai bisogno di aiuto, sai dove trovarmi. Ti farò avere una copia del mio libro. Mi sorprende che tu non l'abbia già. La firmo stanotte e poi te la mando. Bene, arrivederci!» e si allontanò a gran passi verso il castello. Harry attese che Lockhart fosse sparito, quindi estrasse Ron dal cespuglio e lo trascinò fino alla porta della capanna. Bussarono con impazienza. Hagrid apparve all'istante. Aveva l'aria scocciata, ma quando vide che erano loro, si illumino. «Beh, ce l'avete fatta a venire a trovarmi. Entrate, entrate. Credevo che era un'altra volta quel professore lì!» Harry e Ermione aiutarono Ron a entrare nell'unica stanza della capanna, che conteneva un letto enorme in un angolo e un fuoco scoppiettante nell'altro. Hagrid non sembrò affatto impensierito dal problema delle lumache che Harry si affrettò a spiegargli mentre aiutava l'amico a mettersi seduto. «Meglio fuori che dentro!» disse allegramente, scaraventandogli davanti ai piedi un grosso bacile di rame. «Buttale fuori tutte, Ron!» «Credo che non ci sia altro da fare che aspettare che finiscano!» disse Ermione ansiosa, osservando Ron curvo sul secchio. «Già è una maledizione difficile in condizioni ottimali. Figuriamoci con una bacchetta rotta!» Hagrid si stava dando da fare a preparare un tè. Zanna, il suo danese nero, stava sbavando addosso a Harry. «Che cosa voleva Lockhart da te, Hagrid?» chiese il ragazzo, dando a Zanna una grattatina sulle orecchie. «Mi diceva come cavare i kelpi dal pozzo», grugnì Hagrid, togliendo dal tavolo malconcio un galletto mezzo spennato e poggiandovi la teiera. «Non ci ho capito niente. E poi, come aveva fatto a sgominare non so quale Banshee? Mi mangio il paiolo se c'era solo mezza parola di vero!» Non era da Hagrid criticare un insegnante di Hogwarts e Harry lo guardò sorpreso. Ma Hermione disse con un tono di voce un po' più stridulo del solito. «Penso che tu sia un po' ingiusto. È ovvio che il professor Silente ha pensato che fosse il migliore per quell'incarico». «Il solo, non il migliore», disse Hagrid, offrendo ai ragazzi un vassoio di caramelle mu, mentre Ron tossiva e vomitava nel bacile. «Solo, come l'occhio di un orbo nel paese dei ciechi. Diventa sempre più difficile rimediare qualcuno per le arti oscure. Girano tutti a largo, capito? Pensano che la materia porta male. Nessuno resiste a lungo». «Ma ditemi un po', proseguì accennando con il capo a Ron. «Chi stava cercando di affatturare?» Malfoy ha insultato Hermione. Deve essere stata una cosa pesante, perché tutti si sono arrabbiati. «Era pesante?» disse Ron con voce loca, sollevando la testa pallido e sudato. «Malfoy l'ha chiamata sangue marcio, Hagrid». Ron si interruppe, per via di una nuova ondata di lumache. Hagrid sembrava fuori di sé. «Ma davvero?» ruggì rivolto a Hermione. «È proprio vero», rispose lei. «Non so che intendesse, però naturalmente ho capito che era un'offesa». «Forse è la cosa più offensiva che gli poteva venire in mente», disse Ron boccheggiante, riemergendo da sopra il bacile. «Sangue marcio» è un modo di dire spregiativo, per indicare un mago nato babbano, voglio dire, da genitori non maghi. Alcuni, come la famiglia di Malfoy, per esempio, pensano di essere meglio di tutti perché sono quello che la gente chiama puro sangue. Ebbe un lieve conato e questa volta un'unica lumaca gli cadde nella mano tesa. La gettò nel bacile e proseguì. «Tutti quanti noi sappiamo che non fa nessuna differenza. Prendi Neville Longbottom, lui è un puro sangue, eppure non riesce neanche a fare star dritto un calderone. Mentre non l'hanno ancora inventato, un incantesimo che sta streghetta non sa fare», disse Hagrid tutto orgoglioso. «E' una cosa disgustosa» da dire a una persona, disse Ron asciugandosi con mano tremante il sudore che gli imperlava la fronte. «Come dire sangue sporco, sangue babbano, roba da matti. Tanto, oggigiorno, quasi tutti i maghi sono di sangue misto. Se non avessimo sposato dei babbani saremmo tutti estinti». Fu scosso da un altro conato e si tuffò di nuovo sul bacile. «Beh, avevi ragione a scagliargli una maledizione, Ron», disse Hagrid a voce alta per coprire i tonfi di altre lumache che cadevano nel bacile. «Ma magari è meglio che hai fatto cilecca. Se gli affatturavi il piccolo, Malfoy grande, era già qui a strepitare. Almeno non sei nei guai». Harry avrebbe voluto dire che non vedeva guaio peggiore del dover vomitare lumache, ma non ci riuscì. La caramella mu che gli aveva dato Hagrid gli aveva cementato le mascelle. «Oh, Harry!» disse Hagrid tutta un tratto, come colpito da un pensiero improvviso. «Ora che ci penso, com'è che mandi in giro le tue foto autografate a tutti tranne che a me?» Furibondo, Harry riuscì a staccare i denti da quella morsa appiccicosa. «Io non mando in giro le mie foto autografate», disse accalorandosi. «Se Lockhart fa circolare ancora questa voce...» Ma poi vide che Hagrid rideva. «Ci sei cascato!» disse dandogli una manata gioviale sulla schiena, che lo mandò a sbattere con la faccia sul tavolo. «Lo sapevo che non l'hai fatto davvero. Gliel'ho detto al professor Coso. Tu non ce n'hai bisogno. Sei più famoso di lui senza sbracciarti tanto». «Scommetto che non gli è piaciuto quello che gli hai detto», disse Harry, raddrizzandosi e strofinandosi il mento. «Mi sa di no», disse Hagrid gongolante. «Egli ho pure detto che non ho mai letto manco uno dei suoi libri e a quel punto se n'è andato». «Una caramella, mu Ron?» disse quando Ron riapparve. «No, grazie. Meglio non rischiare», rispose il ragazzo con voce frebile. «Guardate un po' cosa mi sto coltivando», disse Hagrid, quando Harry e Hermione ebbero finito di bere il tè. Nel piccolo orto dietro alla capanna c'era una dozzina di zucche, le più grosse che Harry avesse mai visto. Avevano le dimensioni di un macigno. «Vengono su bene, eh?» disse Hagrid tutto felice. «Sono per Halloween e per allora saranno grosse giuste». «Con che cosa le hai concimate?» chiese Harry. Hagrid si guardò intorno per controllare che fossero soli. «Beh, sapete com'è, le ho un po'... aiutate». Harry notò l'ombrello rosa a fiori di Hagrid appoggiato alla parete posteriore della capanna. Harry aveva già avuto ragione di credere che quell'ombrello non fosse soltanto quel che sembrava. In realtà, aveva la netta impressione che vi fosse nascosta la bacchetta dei tempi in cui Hagrid frequentava la scuola. Hagrid non poteva usare la magia. Era stato espulso da Hogwarts quando faceva il terzo anno, ma Harry non era mai riuscito a scoprire perché. Un minimo accenno all'argomento e subito Hagrid cominciava a schiarirsi fragorosamente la gola e diventava stranamente sordo, fino a che non si cambiava discorso. «Un incantesimo d'ingozzamento, suppongo», disse Hermione tra il critico e il divertito. «Beh, hai fatto un buon lavoro». «Lo dice pure tua sorella piccola», disse Hagrid accennando a Ron. «L'ho incontrata proprio ieri». Hagrid lanciò a Harry un'occhiata sbieca mentre rideva sotto i baffi. «Diceva che stava facendo un giretto, ma mi sa che sperava di beccare qualcun altro qui». Strizzò l'occhio a Harry. «Se vuoi sapere la mia, a lei non farebbe affatto schifo la tua foto con...» «Oh, chiudi il becco», disse Harry. Ron scoppiò a ridere e l'orto fu nuovamente cosparso di lumache. «Ehi, occhio!», tuonò Hagrid scostando Ron dalle sue preziose zucche. Era quasi ora di pranzo e poiché da quando si era alzato all'alba Harry aveva mangiato solo una caramella mu, era alquanto ansioso di sedersi a tavola. Salutarono Hagrid e tornarono al castello. Ogni tanto Ron era scosso da un singhiozzo, ma vomitò solo due lumache molto piccole. Non avevano fatto in tempo a mettere piede nella fredda sala d'ingresso che udirono una voce. «Eccovi finalmente, Potter! Weasley!» La McGonagall veniva verso di loro con aria severa. «Questa sera sconterete tutti e due la vostra punizione!» «Che cosa dovremmo fare, professoressa?», chiese Ron cercando nervosamente di reprimere un rutto. «Tu luciderai l'argento nella sala dei trofei insieme a Filch», disse la McGonagall. «E niente magie, Weasley! Olio di gomito!» Ron deglutì. Filch, il custode, era odiato da tutti gli studenti della scuola. «E tu, Potter, aiuterai il professor Lockhart a rispondere alle lettere dei suoi ammiratori», proseguì la McGonagall. «Oh no! Non posso andare anch'io a lucidare l'argento!», chiese Harry disperato. «Certo che no!», rispose la McGonagall, sollevando le sopracciglia. «Il professor Lockhart ha chiesto espressamente di te. Alle otto in punto, tutti e due!» Harry e Ron si trascinarono fino alla sala grande, in uno stato di profonda prostrazione, seguiti da Hermione, che aveva inaugurato un'espressione del tipo così imparate a violare il regolamento. Harry non si gustò il pasticcio di carne e purè come aveva pensato. Sia lui che Ron ritenevano di aver ricevuto la punizione peggiore che poteva esserci. «Filch mi terrà lì tutta la notte», disse Ron depresso. «Niente magia! In quella stanza ci saranno almeno cento coppe da lucidare. Io non sono bravo nelle faccende domestiche babbane. Io farei il cambio in qualsiasi momento», disse Harry con voce spenta. «Ho fatto un sacco di pratica con i Dursley, ma rispondere alle lettere degli ammiratori di Lockhart sarà un incubo!» Quel sabato pomeriggio sembrò volare via e in men che non si dica furono le otto meno cinque. Harry si avviò di malavoglia lungo il corridoio del secondo piano, verso l'ufficio di Lockhart, strinse i denti e bussò. La porta si spalancò subito. Lockhart gli rivolse uno dei suoi sorrisi smaglianti. «Ah, ecco il furfantello!» esclamò. «Entra, Harry, entra pure!» Sulle pareti pendevano un'infinità di sue fotografie, incorniciate e illuminate dalla luce di molte candele. Alcune erano anche autografate. Sulla scrivania ne troneggiava un'altra pila. «Puoi scrivere gli indirizzi sulle buste», disse Lockhart a Harry con l'aria di fargli una grande concessione. «La prima è per Gladys Gajon, santa donna, una mia grande ammiratrice!» i minuti passavano con lentezza esasperante. Harry si lasciava scorrere addosso la voce di Lockhart e di tanto in tanto rispondeva con un «Giusto? Già?». Sporadicamente faceva caso a una frase del tipo «La fama è un'amica volubile, caro Harry!» oppure la celebrità è passeggera non dimenticarlo mai le candele si consumavano lentamente e la loro luce tremula danzava sugli innumerevoli volti mobili di lockhart che lo osservavano dalle pareti henry allungò la mano indolenzita su quella che doveva essere la millesima busta e scrisse l'indirizzo di veronica smetley dovrebbe essere quasi l'ora di andarsene pensò ti prego fa che stia per finire poi udì qualcosa qualcosa di molto diverso dallo sfrigolio delle candele morenti e dalle ciance di lockhart sulle sue ammiratrici era una voce una voce che gelava il sangue una voce così velenosa da togliere il respiro una voce fredda come il ghiaccio vieni vieni da me ti squarterò ti farò a pezzi ti ucciderò henry fece un gran salto e sull'indirizzo di veronica smetley cadde una grossa macchia di inchiostro lilla cosa disse ad alta voce lo so disse lockhart sei mesi di seguito in cima alle classifiche dei best seller ho polverizzato ogni record no disse henry intendevo quella voce prego disse lockhart con l'aria perplessa quale voce quella la voce che ha detto non l'ha sentita lockhart fissava henry completamente attonito ma di che cosa stai parlando henry forse sei un po' stanco per tutti i gargoyle guarda che ora è abbiamo lavorato per quasi quattro ore non l'avrei mai detto il tempo è volato non pare anche a te henry non rispose tendeva l'orecchio ma ora l'unico suono era la voce di lockhart che gli diceva di non aspettarsi una punizione gratificante come quella ogni volta che si fosse beccato un castigo completamente stordito henry lasciò la stanza era così tardi che la sala comune di grifondoro era quasi deserta henry salì dritto filato al dormitorio ron non era ancora tornato indossò il pigiama si infilò al letto e rimase in attesa mezz'ora più tardi arrivò l'amico massaggiandosi il braccio destro e portandosi dietro nella stanza buia una gran puzza dilucidante per l'argento non mi sento più i muscoli gemette sprofondando nel letto mi ha fatto strofinare quattordici volte la coppa dei quiddici prima di essere soddisfatto e poi ho avuto un altro attacco di lumache e ho vomitato tutto sopra un premio speciale per i bassavoce per non svegliare neville din e simus henry gli raccontò per filo e per segno quel che aveva udito e lockhart ha detto che non la sentiva chiese ron alla luce della luna henry lo vide aggrottare la fronte non hai pensato che stesse mentendo ma non capisco anche un essere invisibile avrebbe dovuto aprire la porta lo so disse henry tornando a stendersi e fissando il baldacchino sopra la sua testa neanche io capisco